Emma Giacchetti, siamo all'atto finale di questa stagione lunghissima, si va a Torino per cercare di arrivare a conquistare una promozione in Serie 2. Sì, domani partiamo, sabato giochiamo a Torino, la finale dei play-off di Serie B, posso soltanto dire che ce la siamo guadagnata, siamo tutte ragazze dai 18 ai 16 anni che hanno lavorato tutto l'anno, hanno vinto degli scudetti, hanno dimostrato che possono stare in campo e un'altra soddisfazione è quella che siamo riusciti ad arrivare alla finale dei play-off della Serie B, con tanta voglia di poterla anche vincere questo campionato. Dicevi che è stata una stagione veramente estenuante, però per voi due scudetti, per te che sei stata in prima squadra, terzo posto in campionato in Serie A1, penso che sia una stagione che ti ricorderai anche da qui a quando avrei smesso di giocare. Sì, sicuramente, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tanti sacrifici, però il bello è stato proprio che tutti i sacrifici che abbiamo fatto sono stati ripagati con appunto il terzo posto in Serie A, la vittoria di un bis di scudetti addirittura quest'anno e poi ora appunto l'atto finale che è quello di cercare di vincere la 2. Ultima cosa, che cosa ti aspetti da queste due partite? perché Torino comunque è anche una città grande, importante, quindi avrà sicuramente, forse anche più pressione di voi. Sì, sicuramente avrà più pressione di noi, però è una grande squadra ovviamente, ha delle ragazze, ha anche ragazzini come noi, ma ha delle ragazze che hanno fatto molta esperienza anche in A2 e noi andremo là, come al solito, con la voglia di vincere, di giocare, di divertirci e far divertire.